Buongiorno, innanzitutto scusatemi per non essere lì presente di persona, credo che nessuno meglio di Marco può capire il fatto che stare per me in questo momento al Ministero a seguire l'andamento dei vari dossier, che sono tanti, è la cosa principale per far funzionare la macchina, come voi fate nelle vostre aziende. Dunque di nuovo mi scuso per non essere presente. L'iniziativa è molto interessante perché intanto c'è una coincidenza assoluta con le priorità definite, dal Ministero dello Sviluppo Economico in termini di politica industriale. Internazionalizzazione, industria 4.0, start-up e soprattutto la dimensione finanziaria che serve per accompagnare le imprese in questo passaggio, che è un passaggio epocale molto complesso, su principalmente le due dimensioni dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica, le start-up sono in fondo l'evoluzione del sistema delle nostre piccole e medie imprese che si adattano allo sviluppo tecnologico. Quindi partirei proprio da questi due elementi, internazionalizzazione e innovazione tecnologica. Come voi sapete noi ne abbiamo fatto i due pilastri, come dicevo prima, della nostra strategia e abbiamo lanciato due piani. Uno un po' più anziano, che è partito tre anni fa, che è il piano straordinario per il Made in Italy, che sostanzialmente è un piano che cuba 210 milioni di euro nel 2017 e ha come obiettivo quello di portare sempre più aziende ad internazionalizzarsi, in particolare in quella categoria intermedia, che noi stimiamo essere di circa 60 mila aziende, che oggi hanno incominciato un processo di internazionalizzazione, ma lo stanno facendo ancora in maniera non sufficiente. Non sufficiente in che modo? Non sufficiente come ampiezza, per esempio, dei mercati coperti, che oggi è una variabile fondamentale, perché noi sappiamo che oggi il mondo è molto più complesso, difficile, quindi essere presenti solo sul mercato, anche con una porzione rilevante del fatturato, è pericoloso. Pensiamo a quello che è successo, per esempio, per alcuni distretti, penso a quello di Fermo, per quanto riguarda la Russia. Dunque, un'articolazione maggiore e ovviamente una penetrazione superiore per tutto quello che riguarda, per esempio, i beni di consumo nelle catene distributive globali. Il piano è articolato con un sistema di incentivi piuttosto semplici, ha due elementi che, secondo me, sono fondamentali. Il primo è quello di lavorare con le catene di distribuzione internazionali, secondo un meccanismo che prevede piano piano l'inserimento di prodotto italiano, che oggi non è presente sui banconi, diciamo così, delle grandi catene distributive, in maniera da dare la possibilità a queste aziende di avere l'accesso al consumatore, nel caso specifico molto sul Nord America, ma non solo, e poi ovviamente starà all'azienda a riuscire a vendere e gestire i riassortimenti. Ecco, questo è un altro aspetto importante. Internazionalizzarsi è anche una questione culturale, e noi abbiamo deciso di farla in questo modo, cercando di capire anche come sono fatti gli imprenditori. Invece di dargli una serie di elementi prescrittivi, cioè devi fare questo, devi assumere queste persone, devi avere quest'altra caratteristica, eccetera, eccetera, farglielo dire dai buyer delle grandi catene. Come? Mettendoli dentro la grande catena, e poi sarà lo stesso buyer che compra il prodotto dall'azienda, mettiamo piccola e media che fa scarpe, a dire, guarda, ti devi dotare di personale adatto, di un sistema IRP, devi garantirmi la gestione del magazzino, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, che la vendita guidi il cambiamento culturale delle imprese nell'internazionalizzazione ci pare il sistema più adatto. Ovviamente questa è una delle iniziative. Penso a quella che abbiamo sviluppato per le imprese piccolissime, ovvero i temporary export manager, la possibilità di avere un export manager che supporta l'impresa quando l'impresa non ha la possibilità di prendere full time, a tempo pieno, un export manager, ma incomincia la sua crescita internazionale affittandolo, tra virgolette, e poi piano piano entrando sempre di più nelle catene del valore e a quel punto lo potrà assumere. Quest'anno lanciamo anche un programma di alti potenziali, che è un programma invece dedicato alle aziende un po' più grandine. Noi abbiamo riscontrato questo, che molte aziende, anche di dimensioni medie, quando si muovono sul mercato internazionale, non lo fanno avendo prima chiarito gli obiettivi che vogliono raggiungere, né per esempio qual è l'assorbimento di capitale che questa presenza comporterà. Questo fa sì che molto spesso le decisioni sono prese, passatemi in termini, con la pancia. Ora noi sappiamo che la pancia degli imprenditori italiani è molto buona, diciamo tendenzialmente, però oggi, come dicevo prima, il rischio è che in un mercato globale molto più complesso, difficile, esposto ai rischi geopolitici, si facciano scelte che poi rischiano di mettere in discussione l'intero perimetro aziendale. Ecco perché abbiamo previsto una fase di accompagnamento da parte di tutor di primarie società di consulenza, che il Ministero incentiverà, per fare un piano di internazionalizzazione articolato, fondato su quelli che sono i parametri di business dell'impresa. E questo serve per scegliere, per prendere decisioni razionali e decisioni di business con, come posso dire, sostanziate in quello che è la prospettiva anche di medio periodo dell'impresa. Questo è molto importante perché si aggancia poi con gli altri strumenti del Ministero. Penso per esempio a quelli di Simest e Sace, che sono oggi sempre più integrati e che hanno una funzione di accompagnamento non in ottica di delocalizzazione produttiva, ma in ottica di copertura dei mercati, sia per le imprese che vogliono andare a presidiare con la produzione un mercato, sia le imprese che vogliono invece vendere in un mercato, sia ancora le imprese che hanno bisogno di un credito, per esempio, sull'esportazione. Allora, piano piano, come vedete, sulla filiera dell'internazionalizzazione si compone una strategia che va per target d'impresa, cioè per le imprese micro, il temporary export manager, per le imprese più grandi, il progetto alti potenziali, per entrambe le categorie, l'ingresso nella distribuzione commerciale e poi tutto il lavoro che ovviamente facciamo con le missioni internazionali, che è un lavoro che spesso tocca anche le grandissime imprese quando bisogna fare un'attività di lobby. Dunque, questo è il primo segmento, ed è il segmento importante, a cui va accompagnata l'attività che abbiamo fatto in Italia di grande riqualificazione del sistema fieristico, scegliendo di aiutare e finanziare in maniera molto significativa solo le fiere più grandi che possono competere a livello internazionale, più grandi nelle loro nicchie, nel senso che l'Italia ha circa una trentina di fiere leader, alcune sono molto famose, il Salone del Mobile per esempio, pitti per la moda, altre sono ovviamente di estrema nicchia, penso a tutte quelle sui macchinari, ma sono leader mondiali. Noi abbiamo fatto la scelta per la prima volta di dire lo Stato fa una scelta, decide di finanziare l'eccellenza e non guarda più a dove si svolge la fiera o finanziare il quartiere fieristico o distribuire soldi a pioggia, ma fare una scelta di competitività. Ne abbiamo bisogno perché il primo passo di internazionalizzazione per un'impresa è proprio quello della presenza a una fiera. L'Italia era leader in tantissime fiere, in alcuni casi ha perso a vantaggio della Germania perché non è stata fatta una politica industriale sulle fiere. Chiuso il capitolo internazionalizzazione, c'è il capitolo innovazione. Non vandrò nel dettaglio del piano industria 4.0 perché peraltro l'ho spiegato anche lì e ormai l'ho spiegato talmente tante volte, credo a molti di voi che vi sarà venuto a noia, però qual è il tema di oggi che voi affrontate? Quali sono gli strumenti finanziari di supporto? Ecco, su questo io tengo a sottolineare una cosa. Ne abbiamo tenuto conto e sono uno dei pilastri del piano, ovvero da un lato noi abbiamo gli incentivi fiscali che sono come voi sapete potenti, ammortamento, superammortamento, iperammortamento, credito potenziato alla ricerca e innovazione, molto forte e molto potente, ma ci siamo posti il problema di, sì, ma un'impresa che vuole investire oggi, anche stante la situazione del mercato del credito bancario, se ha un rating intermedio, come può riuscire ad accedere alle risorse che gli servono per fare investimento? Ecco che allora abbiamo stanziato 900 milioni di euro sul fondo centrale di garanzia, ma soprattutto lo abbiamo ristrutturato e riformato. in che senso? In primo luogo abbiamo definito di premiare chi vuole investire, cioè chi chiede credito, non per finanziare il circolante, ma per finanziare gli investimenti. Daremo a queste aziende il massimo della copertura, che è l'80%, in particolare se queste aziende hanno rating intermedi. Il fondo attuale, quello che ancora sta funzionando purtroppo, perché c'è un periodo di sperimentazione, c'è stato un periodo piuttosto lungo tra il varo della riforma, la firma da parte del Ministero dell'Economia e Finanze e la sperimentazione. Ma il fondo che abbiamo, diciamo vecchio, era un fondo costruito sulla base del fatto di dare più o meno l'80% a tutti. Cosa succedeva? Che inevitabilmente le banche presentavano i dossier delle aziende che avevano un rating già molto alto, a cui probabilmente avrebbero dato comunque capitale. In questo modo, di fatto, loro assorbivano meno capitale proprio, ma il Ministero non raggiungeva l'obiettivo, cioè quello di aiutare le imprese che effettivamente hanno bisogno di una garanzia per poter accedere al critico bancario. Per cui, insieme alla caratteristica della richiesta per investimenti, abbiamo rafforzato la presenza su quei rating intermedi, solvibili ovviamente, ma che hanno oggi difficoltà a finanziarsi. Su tutto questo batte la Sabatini, che abbiamo riaperto, rifinanziato, e che contribuisce a battere la componente, come voi sapete, di interesse. Questo pilastro è un pilastro fondamentale. Considerate che noi riteniamo, a regime, con il nuovo sistema del fondo di garanzia, di riuscire a garantire, perdendo sostanzialmente 900 milioni di euro l'anno, perché questo, quando io dico abbiamo messo 900 milioni, sono le perdite che noi riteniamo di fare, perdendo 900 milioni di euro, riuscire a finanziare tra i 22 e i 25 miliardi, garantire tra i 22 e i 25 miliardi di crediti alle imprese. Quindi è una manovra molto massiccia, molto corta. Dunque, come stiamo lavorando sulla finanza? Da un lato aiutare il piano Industria 4.0, sempre nell'ottica, che è una politica di fondo, di premiare le imprese che vogliono investire, e dall'altro lato stiamo costruendo, invece, un sistema per le start-up, che rappresentano, come dicevo, soprattutto in un paese che ha un'imprenditoria diffusa e molto dinamica, il nuovo sistema delle PMI che sta crescendo. C'è stata una legge, uno Start-up Act, che ha definito cos'è una start-up e cosa non è una start-up, cosa assolutamente necessaria, perché la confusione regnava sovrana a proposito della definizione di start-up, e abbiamo lavorato nella legge di bilancio per rafforzare il meccanismo di investimento, sia da parte dei privati, sia da parte delle società cosiddette sponsor, che oggi possono portarsi una parte delle perdite, delle società sponsorizzate, quindi delle start-up sponsorizzate, sopra, e quindi ne hanno un beneficio fiscale. Insieme a questo crescono iniziative, diciamo, di investimento diretto, di supporto diretto, come Smart and Start. Voi sapete, perché io l'ho detto più volte, che quello che ho fatto io nel Ministero è ripulire tutti gli incentivi a bando, cioè sono convinto del fatto che gli incentivi a bando sono incentivi troppo complessi per essere utilizzati e risentono non poco di un approccio di regista, in cui è il Ministero che vuole dire alle imprese cosa fare. Il Ministero aveva circa 25 misure, oggi ne ha 4. Di queste 4, una è sulle start-up e che ho deciso di lasciare aperto, perché si sta dimostrando che funziona, che è appunto Smart and Start, sulla quale ho messo per ora 200 milioni di euro, sono disponibili a metterne delle altre, perché c'è questa contraddizione fondamentale, cioè noi abbiamo un sistema che fondamentalmente dovrebbe essere perfetto per far nascere start-up, in termini di sistema imprenditoriale, perché già le faceva nascere quelle che noi chiamiamo PMI, in realtà non erano che start-up, oggi le chiamiamo in un modo diverso, con una componente tecnologica che sempre di più sarà in tutti i settori, e dall'altro lato però ne abbiamo pochissime, perché il capitale di rischio e gli investimenti in questo settore non stanno decollando. Questa è l'attività a cui ci dedicheremo moltissimo, non solo perché è importante in quanto finanzia l'imprenditoria, l'imprenditoria di punta innovativa, ma per un'altra ragione, che nel mondo sempre di più, penso al settore farmaceutico, l'attività di ricerca e sviluppo si fa attraverso l'acquisizione di quote delle start-up. Quindi l'elemento delle start-up e del venture capital non è solo importante per l'imprenditoria, per un tessuto economico, che gli dà vivacità, lo fa sperimentare, ma è importante anche per le grandi imprese. Ecco, questo ci piacerebbe vederlo sempre di più. In Italia negli anni sono nati tantissimi incubatori per start-up che nella stragrande maggioranza dei casi sono state operazioni immobiliari che hanno portato a pochissimi risultati. Io dico sempre che a un certo punto le start-up andavano di moda e quindi chiunque voleva fare un fondo per le start-up, un building dove mettere start-up che chiamavano impropriamente incubatore, insomma abbiamo fatto un sacco di dispersione di energia. Quello che stiamo cercando di fare è di ricompattare questo mondo e cercare di dedicarlo più ai canali finanziari, incentivandoli di nuovo, diciamo prevalentemente attraverso incentivi fiscali e solo marginalmente attraverso incentivi diretti, per cercare di dare una spinta a un mondo che oggi obiettivamente non esprime quello che potrebbe esprimere. La lezione tuttavia è molto importante perché come una volta andavano di moda le start-up adesso va di moda Industria 4.0 e allora al di là di quello che noi facciamo a livello centrale un impegno grandissimo che le associazioni stanno portando avanti e tutti gli attori territoriali per la verità è quello di costruire il pilastro della competenza di Industria 4.0 e quindi due elementi del Digital Innovation Hub e del Competence Center. Ecco qui bisogna evitare gli errori fatti in passato con gli incubatori delle start-up ed è la ragione per cui noi stiamo cercando di tenere una governance molto centralizzata rispettando ovviamente le modalità organizzative che le varie associazioni si stanno dando sul territorio ma allo stesso tempo dando canoni molto stringenti, criteri molto stringenti per essere considerato un Digital Innovation Hub e ancora di più per essere un Competence Center. Questo ha vantaggio dell'efficacia noi non abbiamo risorse infinite in Italia dobbiamo cercare da un lato di essere flessibili per lasciare spazio alle associazioni di trovare il loro modo di contatto con le imprese ma dall'altro lato non possiamo permetterci di ripetere gli errori fatti con gli incubatori di cui parlavo prima che sono diventate operazioni molto spesso vuote. Insomma il sistema è molto complesso ha elementi, o almeno io scorgo, elementi di positività nello sviluppo anche nel sistema delle start-up molto nell'internazionalizzazione sapete che veniamo da un altro anno record dell'export l'italiano allo stesso tempo la scommessa come su tutta la politica economica del governo deve essere quella di far diventare un gruppo di testa di imprese eccellenti che è ampio ma che comunque è un gruppo sempre più un caso generalizzato. Oggi se dovessi darlo o tagliarlo con l'accetta l'Italia sostanzialmente ha il 20% di imprese che ce l'hanno fatta, ce l'hanno fatta poi tutti i giorni si misurano col mercato però stanno nelle catene globali del valore stanno innovando, investono insomma competono e funzionano ancora i margini sono un po' bassi ma molte di loro stanno svoltando anche su quel fronte. Abbiamo all'estremo posto un 20% che soffre enormemente di tutte le anomalie italiane perché sono molto legate al mercato interno o perché sono state danneggiate dalla concorrenza per esempio sleale cinese penso alle grandi aziende di acciaio penso alle aziende dell'alluminio penso però anche col center per esempio che risentono tantissimo di un dumping che è totalmente sociale perché l'unica variabile è il costo del lavoro. Ecco, la strategia di politica industriale del governo è supportare sempre le eccellenze allargare però il mondo di mezzo cioè quelli che stanno tra le aziende che hanno un grosso problema ormai quasi di sopravvivenza e le eccellenze che sono tante sono la maggior parte e su cui noi ci giochiamo la partita del futuro e poi sull'ultimo gruppo quelle che hanno avuto sofferenze molto particolari derivanti da situazioni in qualche modo o legate alle disfunzioni italiane o a mancanza di protezione a livello europeo dalla concorrenza scorretta operare invece proprio a livello di sistema e quindi dalla normativa nuova sugli energivori che stiamo preparando penso all'acciaio alla battaglia che abbiamo fatto in Europa e direi parzialmente vinta sul fatto che ci volesse un modo più assertivo di difendere l'acciaio dall'acciaio cinese non dalla legittima competizione ma da quella scorretta e tutte quelle normative che sono in qualche modo di sistema e che hanno a che fare con la produttività totale dei fattori non ultima la necessità di avere sempre di più una quota del salario legata alla produttività che è parte della legge di bilancio dove come voi sapete noi abbiamo rafforzato la defiscalizzazione della quota di salario legata alla produttività con questo è un po' l'insieme delle cose che stiamo facendo non ne vogliamo aggiungere tante altre il lavoro che dobbiamo fare in quest'anno è un lavoro di farle penetrare veramente a livello di tutte le imprese io ho mandato alle imprese italiane circa un milione un manuale su Industria 4.0 la descrizione delle misure lo stiamo mandando adesso ai periti le stiamo mandando ai commercialisti più dettagliati stiamo curando con grandissima attenzione la circolare dell'Agenzia delle Entrate insomma il lavoro adesso è fare delivery abbiamo fatto concettualmente abbiamo costruito insieme con voi gli elementi di politica economica adesso di politica industriale adesso quello che bisogna fare è correre pancia a terra e spiegarlo alle imprese e vedere come funzionano essendo sempre pronti a cambiare perché quando si prende una decisione come sa ogni imprenditore sbagliare è inevitabile l'importante è capirlo non aver paura di cambiare per questo e concludo quello che state facendo oggi è molto importante perché se c'è un ruolo e io penso che sia fondamentale delle associazioni industriali il ruolo delle associazioni industriali è davvero quello di fare la cinghia di trasmissione con il sistema delle imprese che particolarmente in Italia è molto frammentato per questo ringrazio il vostro Presidente che oltre ad essere un grandissimo imprenditore è un grandissimo motivatore oltre che anche un fustigatore molto spesso della politica e che sta facendo su questo un lavoro davvero straordinario grazie a tutti